eccoci ciao a tutti ben trovati ben trovati con prendete posto in aula quest'oggi e siamo molto contenti di ospitare la nostra prima ricercatrice Sara Ruschioni che io saluto ben arrivata grazie mille ciao e ciao a tutti ci diamo del tuo eh Sara ci diamo del tuo va benissimo va benissimo in questo appuntamento con le donne dell'università politecnica delle Marche e le ricercatrici l'appuntamento con la sostenibilità la ricerca l'innovazione e tutto quanto di bello ecco troviamo all'interno dell'università attraverso le ricercatrici allora Sara è di Ancona si è nata ad Ancona Anconetana Doc Anconetana perché hai studiato hai fatto i tuoi studi ad Ancona tutto quanto Ancona si è nata e ho fatto tutto il percorso scolastico nel colle di Montedago quindi insomma sono proprio Anconetana Anconetana proprio di quelle toste e allora lei si occupa di tante cose la sua formazione arriva dal liceo scientifico lei ha fatto il Galileo Galilei poi la laurea in scienze e tecnologie agrarie Università Politecnica delle Marche poi l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo forestale e dal 2007 dottore di ricerca in produzioni vegetali ed ambiente esatto allora vediamo un po' questa ricerca così ce ne parli Sara la sua attività di ricerca comprende diversi aspetti dell'entomologia tanto per cominciare entomologia cos'è cos'è che cos'è insetti probabilmente l'entomologia è lo studio degli insetti mi sono preparata e dello studio degli insetti diciamo lo studio anche nell'applicazione proprio di questi che ci facciamo sì sì dallo studio di base fino proprio allo studio applicativo ecco poi vedo studi di elettrofisiologia studi di morfologia funzionale ecologia apicultura insetti edibili anche qui insetti edibili qualcosa mi fa pensare insetti che si mangiano che si mangiano esatto sai che faccio adesso io spiegaci per favore questa ricerca partiamo subito da quello e io ti ascolto con devozione ecco ok no il tema degli insetti edibili è un tema recente insomma molto recente molto recente sì che punta alla sostenibilità in questo momento c'è un momento di crisi ambientale crisi economica e troppe bocche da sfamare troppo poco spazio no a disposizione e lo spazio che noi utilizziamo lo stiamo utilizzando molto molto impattante quindi siamo arrivati al punto di aver necessità di ricercare delle fonti proteiche sostitutive sostitutiva cosa a quelle che oggi sono le nostre fonti proteiche che però si è visto che appunto sono troppo impattanti e gli insetti edibili in realtà possono essere una soluzione io voglio iniziare dicendo cosa che lo scopo della ricerca non è sostituire la nostra dieta con gli insetti quindi proprio siamo lontanissimi dal voler togliere il ciauscolo e far mangiare salame di insetti alle persone l'obiettivo è innanzitutto utilizzare queste proteine come alimentazione animale anche perché adesso gli animali stanno mangiando proteine che in realtà non sarebbero nemmeno le loro proteine naturali troviamo delle galline che magari mangiano proteine che derivano dalla soia quando le galline in natura mangiano proprio gli insetti insomma quindi capito è un tornare proprio nella loro origine di animali quindi rispetto proprio del loro essere animali che comporta anche un guadagno dal punto di vista salutare di questi organismi e per quanto riguarda l'uomo probabilmente verranno introdotte alcune proteine per alcuni alimenti alimenti però di alto valore nutrizionale e alto valore qualitativo ripeto non a sostituzione della nostra dieta ma ad integrazione quello che è importante è capire che sarà un'integrazione laddove appunto sarà possibile possibile ma allora parliamo un attimo di questa se poi mi dici non c'entra niente oppure c'entra però abbi pazienza con me questa benedetta farina di grilli ecco che si trova ormai no oppure no si 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 inizia a trovare ecco parla parla cene nel senso dobbiamo stare tranquilli stiamo tranquilli come come potrebbe essere poteva essere o è stata una derivazione di tuoi studi anche questo serve assolutamente allora è sicura sì nel senso che prima di essere messa in commercio passa attraverso delle analisi degli esami molto molto accurati perché ovviamente è un alimento e come tutti gli alimenti deve essere messo proprio alla prova deve essere studiato perché l'obiettivo è avere un prodotto che sia che non sia pericoloso per noi insomma ecco come tutti gli alimenti è come tutti gli alimenti noi all'università abbiamo gruppo anche di microbiologia che fa parte anche c'è il professor rosivane che fa parte proprio del team dell'efsa ovvero analizzano anche a livello microbiologico il potenziale rischio di contaminazione quindi sì sono sicuri sicuramente mano a mano che verranno che verranno autorizzati da quel momento in poi vuol dire che hanno superato i vari step le varie analisi per la determinazione del loro rischio quindi per adesso ad esempio tenebrio molitor anche la tarma della farina o anche il famoso grillo appunto alcuni sono stati in alcune in alcune formulazioni sono stati autorizzati perché si è visto che sono sicuri dico una cosa ancora la ricerca è lunga nel senso che ciò che è autorizzato è sicuro però noi stiamo continuando a fare ricerche su ricerche perché ovviamente è un argomento nuovo nuovissimo e anche se vuoi un po nel senso poi sai su internet ora è possibile ma l'altro giorno siccome conoscono i miei amici la mia come posso dire la mia resistenza agli insetti io sono sempre un po no e mi hanno mandato un video di una ragazza probabilmente dell'orientale adesso non ti so dire esattamente l'origine che si sgranocchiava un bell'insetto e a me ha fatto tanta impressione guarda ti parlo della mia esperienza sì allora io la prima volta che ho mangiato un insetto è stato in Africa ho passato insomma parte del mio percorso universitario insomma ho fatto un tirocino in Africa quindi sono stata diversi mesi in Africa e ovviamente lì gli insetti sono cibo quotidiano ma io non me ne ero accorta perché me li me li offrivano sempre già cotti al barbecue quindi io pensavo fosse semplicemente del pollo perché mi ricordava il pollo e effettivamente era il mio cibo preferito quindi insomma quando me lo offrivo ne ero sempre molto contenta dopo una due settimane mi sono resa conto che erano larve e anche ci ho avuto un momento di panico totale perché ho detto oddio me le sento vive e l'impatto è comunque sempre strano no perché nella nostra cultura gli insetti sono qualcosa di schifoso passami il termine sì certo certo e una volta che ci si abitua si capisce insomma che in realtà è solo una questione culturale poi dopo il nostro cervello il nostro come si può dire il nostro disgusto viene meno e in Olanda mi è ricapitato di studiare perché in realtà questo studio nasce dall'Olanda Dan Van Huys che è un direttore appunto della Wageningen University e ho avuto la fortuna di lavorare con loro e in quel periodo stavano proprio studiando gli insetti quindi ogni venerdì facevamo una sorta di test con dei menù agli insetti sì ogni venerdì si mangiavano gli insetti alcuni sono un pochino più diciamo un po' meno accattivanti altri neanche te ne rendi conto che li mangi è ovvio che mangiare un insetto intero è impattante e mangiare la farina poi è molto più semplice e ma voi mangiavate in queste sperimentazioni gli insetti interi? tutto facevamo sia prove con insetti interi che prove con insetti elaborati e qual è l'insetto più buono? il Tenebrium molitor che sarebbe? il verme della farina non so che detto così è brutto ma perché hanno dei nomi bruttissimi è un insetto che originalmente era è quello che ogni tanto si trova nella farina no no quelle lì sono dei lepidotteri in realtà noi questo non lo troviamo più è molto difficile trovarlo in passato era un insetto infestante della farina si chiama la farina perché all'inizio quando la molitura era differente c'erano meno controlli era un insetto che lo si trovava ora non lo si trova più perché è abbastanza grande è grosso di che colore è? è marroncino marroncino duro sembra un po' ma fritto? ma in tutte le salse in tutte le salse saltato in padella fritto lesso in tutte le salse lo so che detto così è disgustoso però io voglio ricordare una cosa quando il sushi è arrivato in Italia in realtà anche il sushi è stato un problema no? l'accettazione del sushi da parte dei Neocidentali è stato un problema perché c'era quell'alga verde che a noi era sconosciuta ed era anche un pochino la consistenza era strana no? perché sapeva di mare sapeva di pesce in più questa consistenza non abbiamo fatto altro che rigirarla metterla sotto il riso così occhio non vede cuore non duole e ci siamo abituati a quest'alga ed ora il sushi insomma è diventato è diventato un pasto che i più apprezzano esatto quindi comunque è sempre una questione culturale è sempre solo una questione culturale anche perché l'uomo nasce mangiatole di insetti certo certo senti mi incuriosisce molto ma per esempio se io volessi mettere su un ristorante non so insettiamoci chiamiamolo così no? perché anche con i nomi bisogna insomma in precedenza abbiamo capito che se le cose non le nomini non esistono no? in precedenza nel senso con le con le ospiti esatto e allora nominiamole immaginiamo un ristorante dove tu ecco offri solo insetti è possibile da noi in Italia lo so che la domanda non ti dovrebbe competere però che tu sappia potrebbe essere il momento oppure presto a livello di accettazione? accettazione e anche di procedure allora di procedure ancora sono pochi cioè nel senso che gli ingredienti sono pochi per fare solo insetti potenzialmente ci potrebbe essere ci potrebbe essere la possibilità ma poi dopo l'offerta sarebbe molto limitata c'è stato prima che gli iniziati appunto venissero normati c'è stato un momento in cui c'era un po' un buco legislativo no? e un famoso cuoco a Milano ha approvato ha offerto cioè ha provato ok? e menu costosissimi menu costosissimi e sold out ogni sera anche agli ai perché poi c'è sempre questo fatto di curiosità di essere cool esatto di essere i priglie esatto e ragazzi pensiamoci cioè facciamo una start up insettiamo secondo me ancora è un po' prematura però probabilmente in futuro ci saranno insomma sono sicura ma io sto scherzando no no ma certo certo che io voglio sottolineare perché adesso stanno un pochino parlando stanno utilizzando la farina di Grillo la stanno usando anche in modo inappropriato comunque mi hanno detto che mi hanno detto dice leggendo insomma discutendo anche con gli amici in redazione che questa storia la farina di Grillo è venuta fuori così ma è un pezzo che c'è la polpina non è mai possibile? qualche anno diversi no qualche anno qualche anno sì questa ricerca è nata una decina in modo serio è nata una decina di anni fa la prima idea è stata fino a una ventina di anni fa però proprio gli studi specifici io ero in Olanda mi sembra nel 2007 nel 2007 hanno iniziato loro poi dopo piano piano si è aperta però sì qualche anno ecco non tanto tempo ma qualche anno ma perché allora adesso c'è tutta questa attenzione? perché adesso se ne parla di più ovvero adesso non siamo solo noi scienziati a parlarne ma se ne parla di più perché è stato è un tema che viene utilizzato anche in politica ad esempio se ne parla di più e poi comunque la ricerca ce n'è tanta di più quindi sono anche più i fondi che ci richiedono perché perché in un primo momento era una proposta che diciamo è stata accettata in modo un po' no? non proprio non è stata subito accettata in modo in modo ampio diciamo poi dopo si è visto che effettivamente cioè studi hanno dimostrato che effettivamente è una soluzione che non possiamo non tenere in considerazione dal punto di vista di sostenibilità allora a quel punto è iniziata una ricerca molto più approfondita per vedere quanto ok stabilito che possono essere una risposta per questa crisi climatica ora vediamo se effettivamente può essere anche una risposta alimentare sia per noi che per gli animali certo ok quindi ha fatto vari step ha superato vari step senti guardiamo un attimo questa foto io adoro le api proprio le adoro eccola qui cosa stai facendo dove che cosa stai facendo si vede ma insomma dove sei e se faceva parte della tua ricerca oppure se era un pomeriggio un hobby particolare stavi lavorando nel tuo pezzo di terra preferito no no in quel momento ero nell'apiario didattico dell'università abbiamo due apiari didattici uno a Polo Montedago e uno all'orto botanico e in quel momento lì ero nel Polo Montedago nell'apiario del Polo Montedago e in realtà quel momento lì stavo facendo ricerca la foto me l'ha fatta una collega di ingegneria se non ricordo male me l'ha fatta Stefania e stavamo analizzando le api stavamo facendo degli studi sulle api e mi ha fatto quella foto perché comunque è rappresentativa anche per quanto riguarda la didattica quella è la classica posizione che ho quando racconto ai miei ragazzi le api sì perché dall'anno scorso ho anche un corso di apicoltura e andiamo spesso andremo spesso in apiario perché ho visto che effettivamente raccontare le api spiegare le api direttamente in apiario è come se facessi parlare loro certo è tutto molto più immediato l'apprendimento e anche i ragazzi lo apprezzano tantissimo anche perché è un'esperienza che non si fa tutti i giorni assolutamente poi abbiamo delle api molto buone infatti non so se hai visto lì che ero tranquillamente senza ma sì sì infatti senti ma è vero che stanno male le api non se la passano bene non se la passano bene ma più che le api da miele che hanno noi che in qualche modo cerchiamo di noi hanno gli apicoltori che in qualche modo cercano di di curarle ok stanno male le api selvatiche le api selvatiche sono quelle api che sono assolutamente sconosciute ed è più ma che in natura hanno un ruolo fondamentale tanto quanto quello delle api noi non le conosciamo perché non ci danno il miele ma sono degli impollinatori sono dei impollinatori per eccellenza che purtroppo stanno stanno malino stanno subendo questa crisi climatica sono i primi che subiscono questa crisi climatica perché sono nati in coevoluzione con l'ambiente in cui vivono che cosa vuol dire che sono milioni di anni che loro proprio si stanno specializzando nelle loro piccole nicchie ecologiche e queste nicchie ecologiche stanno cambiando repentinamente sia per il cambiamento climatico insomma che ormai è sotto gli occhi di tutti ma anche per l'impatto antropico agricolo ed urbano quindi loro stanno davvero tanto male infatti sono tante le ricerche che ora stiamo iniziando per riuscire a capire effettivamente come poter risolvere il problema e api smellifera è un po' che è l'ape da miele anche lei non se la passa bene ma in qualche modo essendo un animale o sociale quindi un animale che vive in comunità diciamo che ha una copertura insomma una difesa resilienza questa parola che va molto di moda in realtà per le api è proprio azzeccato una sorta di resilienza ciò non vuol dire che non stanno male ciò vuol dire che forse loro riuscirebbero a cioè potrebbero riuscire a superare il momento critico ma anche lì tutto sta all'azione dell'uomo ok dovremmo lasciarle un pochino più libere un pochino più naturali perché la natura è l'unica che può risolvere questo problema paradossalmente noi pensiamo di essere i responsabili del miglioramento cioè noi pensiamo che solo l'uomo può cambiare sì è vero l'uomo ha fatto il danno l'uomo può recuperare questo danno ma a questo punto qua la natura dovrebbe camminare con le sue con le sue in questo caso zampe perché solo così potrebbe in qualche modo riuscire a capire come adattarsi perché il danno l'abbiamo fatto in poco tempo loro stanno veramente da milioni di anni qua nel pianeta terra certo la frase se le api scomparissero in cinque anni l'uomo scomparirebbe esatto che non ha detto Einstein assolutamente non è stato Einstein è una frase verosimilmente vera ma perché vuol dire che se noi non abbiamo impollinatori non abbiamo più nulla neanche da mangiare ok l'ossigeno sarebbe l'atmosfera sarebbe molto più più non sarebbe così come ora eccetera eccetera però sicuramente c'è più possibilità che le api sopravvivano piuttosto che noi perché a livello di adattamento ambientale noi nonostante la nostra intelligenza a livello proprio fisico insomma non siamo al loro livello è molto molto interessante tra le altre cose mi piacerebbe capire quanto noi insomma abitanti di questo mondo siamo consapevoli di questo non credo proprio poco consapevoli siamo poco consapevoli però stiamo diventando sempre più consapevoli anche perché ora la divulgazione sta uscendo dalle nostre aule uscendo dai nostri laboratori ed è una cosa molto bella esatto e quindi stiamo cercando di divulgare forte esatto a proposito a proposito di divulgare forte ricordiamo che Sara Ruschioni la professoressa è anche una collaboratrice di una radio amica amica proprio della società che è Radio Incredibile è una radio web che trovate appunto sul web ma che fa delle cose veramente incredibili da qui il nome con un'attenzione al sociale molto molto forte e lei cura una rubrica che si chiama proprio io divulgo forte volevo dire che la curo però l'idea non è mia diamo a Cesare ciò che è di Cesare è l'idea di Andrea Cittadini Bellini in redazione siamo diversi menti tutte diverse tra loro e per questo forse che siamo così completi c'è Valeria Tassotti poi dopo c'è anche Eva Veroli Diego insomma siamo tanti e compatti certo una squadra insomma una bella squadra senti invece qui che ti vedo molto tranquilla dove sei? qui stai divulgando forte no? qui sto divulgando forte a Sharper Sharper sì 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 stavo raccontando ci siamo viste poi a Sharper tra l'altro sì sì stavo raccontando a chi passava lungo il corso dell'intelligenza delle api stavo raccontando quanto le api sono intelligenti ricordiamo che Sharper è un'iniziativa appunto che invade le città diverse città d'Italia ma nello specifico Ancona è proprio una manifestazione che serve a portare la ricerca proprio in strada in strada e raccontata appunto dalle ricercatrici e dai ricercatori dell'università proprio con tutta una serie di laboratori di momenti formativi ma anche di semplici racconti così come stiamo facendo adesso proprio perché la ricerca più che mai ha bisogno di essere divulgata in modo come posso dire è comprensibile perché voi fate tante tante cose però ve le tenete un po' nascoste nel senso che poi giustamente utilizzate un linguaggio che è il vostro che però non sempre viene colto e capito e allora manifestazioni come Sharper servono anche a quello sono fondamentali si racconta la ricerca in modo semplice e divertente dicendo però ciò che la ricerca fa molto molto bello e qui invece cosa stai anche questa è un'iniziativa interessante dell'università sì questo forse è stato il momento più fortunato della mia vita nel senso che ho avuto la possibilità di partecipare a FameLab e di vincere appunto le selezioni fino ad arrivare in finale FameLab è una specie di talk show scientifico in cui tu hai tre minuti per raccontare la tua ricerca ed accattivare il pubblico ed è stata un'esperienza bellissima perché a parte che ho conosciuto tantissimi persone tantissimi scienziati tantissimi colleghi di ogni facoltà insomma di ogni anche specializzazione è davvero interessante quindi diciamo che quei tre minuti mi hanno fatto crescere tantissimo dal punto di vista divulgativo in quel momento ero in finale a Roma e stavo raccontando di come gli insetti sanno contare che è stata parte del mio dottorato ovvero dimostrare che gli insetti sanno contare ce la riassumi brevemente così gli insetti sanno contare proprio che mi intriga tantissimo ma tu rimarresti sconvolta dal 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 racconto di come gli insetti possano essere così intelligenti io io ancora tutt'oggi rimango quasi no scioccata nel sapere cosa riescono a fare in cervellini di qualche grammo ed è meraviglioso soprattutto le api ovviamente gli insetti sanno contare ovvero gli insetti riescono a fare dei calcoli specifici ovvero te la riassumo proprio breve breve io ho studiato un insetto che è un imenottero parassitoide ovvero è una vespetta che mette le uova all'interno delle larve di drosofila melanogaster che è la la mosca della frutta che conosciamo tutti il moscerino quello della frutta ed è un parassitoide ovvero ovide pone dentro queste larve ma poi le porta a morte ok il parassitoide solo gli insetti sono parassitoidi ovvero parassitizzano quindi vivono a spese del corpo di un altro organismo ma lo portano a morte invece i parassiti normali non lo fanno e questo per noi è molto importante nella lotta biologica perché in realtà utilizziamo questi parassitoidi per controllare gli insetti fitofagi ovvero gli insetti dannosi e questi parassitoidi che cosa fanno loro hanno a disposizione un volume limitato per far crescere la propria progenie perché in realtà loro hanno una larvetta una larva e dentro questa larva magari il cibo che è a disposizione per la loro progenie è limitato ad un tot quindi alcune larve possono ospitare un figlio altre larve ne possono ospitare due non possono mai sprecare le uova perché perché se ci fosse troppo poco spazio arriveremo al punto in cui o un individuo muore o gli individui crescono ma crescono male in modo non completo ok e la mamma lo sa questo e allora che cosa fa studia il volume studia il volume del suo ospite quindi di questa larva quindi proprio lo analizza non solo è in grado di sapere anche se già ci stanno delle uova dentro delle uova quante uova ci stanno e di chi fanno proprio dei ragionamenti assurdi con cosa con un sensillo un unico sensillo sei neuroni e in tre secondi di tempo riescono a fare queste cose ci sono altri insetti che contano i passi che fanno su altri ospiti quindi proprio calcolano il volume in una cosa come dieci secondi fanno dei calcoli ma poi il bello è che utilizzano la statistica ovvero contano la misura che fanno la fanno per tre volte non meno di tre volte perché perché devono essere sicuri di non aver sbagliato e quindi fanno una sorta prima di calcolo statistico quindi calcolano la media dei passi che hanno fatto e poi e lavorano tutti i dati tutto questo in una manciata di secondi pochi sensilli quindi pochi organi di senso e un cervello davvero questo della leptopilina di cervello è immaginatevi che sarà 0,1 grammo una cosa del genere fantastico mi verrebbe da dire che mi piacerebbe una società di insetti cioè è una formica a capo del governo adesso scherzo però però sicuramente è affascinante quello che stai dicendo è affascinante è affascinante avere la possibilità di studiarlo e sicuramente se dovessimo prendere esempio dagli insetti a volte sarebbe sarebbe buono anche perché noi abbiamo le potenzialità abbiamo le potenzialità anche perché il nostro è un cervello diciamo se questi riescono a fare con il nulla cose di questo tipo vabbè che noi sappiamo questo perlomeno il nostro cervello è studiato ma la potenzialità è ancora ti dico anche una cosa mi hai un pochino anticipata stanno studiando il cervello delle api per interpretare il nostro cervello perché il cervello delle api è costituito da solo 9000 neuroni che sono in grado di fare cose sorprendenti quindi capire il più e il meno il grande dal piccolo contare hanno la concezione dello zero riescono a distinguere un Monet da un Picasso riescono a fare cose elaboratissime riescono a raccontare storie magazzinarle elaborarle e riraccontarle ad altre spiegano insomma hanno una capacità una capacità cognitiva sviluppatissima con solo 9000 neuroni il nostro cervello è costituito da miliardi di neuroni e quindi stanno cercando di capire se solo 9000 neuroni possono fare determinate cose perché noi ne abbiamo così tanti dove arriva la nostra conoscenza che cosa può fare il nostro cervello e quindi stanno studiando il nostro cervello attraverso lo studio delle api fantastico ma insomma io non so voi ma purtroppo il nostro tempo è arrivato a conclusione ma pregherei già da subito anche lei la precettiamo Sara di tornare Sara Ruschioni professoressa all'università politecnica della Marche inserita in questo nostro progetto prendete posto in aula perché vogliamo conoscere meglio le attività delle ricercatrici delle scienziate appunto in quest'ottica di innovazione di sostenibilità di attenzione di attenzione alle cose più piccole no? minuscole e Sara grazie grazie a te assolutamente ho ancora tante curiosità e perciò ritieni ti precettata quando vuoi e ti ringraziamo molto per il tuo tempo ringraziamo agli amici all'ascolto e anche Emanuele Campanelli che è il nostro regista che ritroviamo da quest'oggi appunto in regia e prima fatemi ringraziare la nostra redazione e Alessandro Ranieri che invece ecco ci ha seguito nelle puntate precedenti grazie per stare con noi seguiteci prendete posto in aula o non in aula ma seguiteci ciao a tutti ciao a tutti grazie a te ciao